un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo per raccontarvi una pagina amara triste molto triste della vita di padre pio che lui ha accettato con grande obbedienza l'undici giugno del 1931 è cominciata potremmo dire proprio così la segregazione di padre pio segregazione si è proprio così perché in effetti padre pio non poteva incontrare nessuno poteva solo celebrare messa da solo nella cappellina interna del convento nel sacellum cos'era accaduto ecco ce lo racconta proprio la cronistoria del convento che dice il padre cronista iersera per posta è arrivato il decreto che toglie a padre pio ogni facoltà eccetto quella di celebrare la santa messa egli dovrà celebrarla in privato in convento nella cappellina quindi il padre guardiano senza aver comunicato nulla a nessuno si è recato a foggia per conferire col provinciale e poi è tornato qui a san giovanni rotondo si racconta appunto che il padre guardiano fa chiamare padre pio dopo il vespro la sera lui era in coro a pregare nel salottino del convento gli spiega la situazione e gli dice tu non puoi né confessare né celebrare le autorità la chiesa hanno stabilito questo padre pio lo guarda e dice sia fatta la volontà di dio abbassa il capo sta per qualche minuto lì seduto poi congedato si alza e torna in chiesa a pregare fino a notte fonda torna in coro in realtà nel coro della chiesetta di santa maria delle grazie ecco questo sarà un periodo che dove tutta la gente che veniva qui non avrà l'opportunità di di vederlo e di poter conferire con lui neanche di essere confessata tutta questa gente e poter partecipare alla sua celebrazione eucaristica per due anni interi fino al luglio del 1933 e si racconta e lo scrivono i suoi confratelli proprio nella coro in storia del convento scrivono che mai da lui hanno sentito una parola contraria a quello che stava accadendo sempre umile paziente obbediente alla chiesa e ripeteva spesso i suoi confratelli questa è volontà di dio sia fatta la sua volontà grazie a tutti 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 grazie a tutti